Ed ora la nota del consigliere comunale Sergio Garrieri. Il sottoscritto consigliere comunale Sergio Garrieri, insieme al proprio gruppo, dopo aver analizzato con attenzione gli scenari politici che si stanno delineando, sono disposti ad aderire al progetto di una unica lista unitaria, che si allontani molto dal modo di amministrare attuale, o sei con me o sei contro di me. Convinti di poter dare una mano concreta al rilancio di questo nostro paese sul campo sociale, economico, culturale e sanitario, attraverso la formazione di una proposta amministrativa giovane, competente e soprattutto attaccata al nostro territorio. La nota del consigliere comunale Sergio Garrieri ed il suo gruppo.